Intanto mi presento, piacere a tutti, io sono Giovanni Pizza, CEO di BonusEx. BonusEx è una startup che ha sviluppato una piattaforma che va a semplificare tutta la parte di gestione e richiesta di bonus pubblici, agevolazioni fiscali, in genere servizi che dall'altra parte possono avere diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, dall'Inps all'Agenzia delle Entrate, includendo anche enti locali o regionali. L'intervento di oggi, vedremo in agenda, si basa su tre componenti principali, l'assegno unico con una visione e un po' di dettaglio di come funziona l'assegno unico e delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, un overview poi della famosa attestazione ISEE per quanto impatti l'assegno unico, e infine una breve introduzione appunto su BonusEx e quello che facciamo. Perfetto, allora possiamo scrollare alla slide successiva, che era appunto l'agenda che ho anticipato prima, e poi quella dopo ancora parlando di assegno unico. Dopo ancora. Allora, assegno unico. Assegno unico è una prestazione che è stata introdotta nel 2021, e che di fatto va ad impattare molti nuclei familiari in Italia. Anche qua, per darvi uno snapshot della situazione attuale, a novembre sono stati erogati 5,3 milioni, o meglio, all'assegno unico, a 5,3 milioni nuclei familiari, con una richiesta diretta, più ulteriori 350.000 nuclei familiari tramite l'automatismo con il reddito di cittadinanza. Ed è una prestazione molto molto importante, perché va da una media di 130 euro al mese al nucleo familiare con un figlio, fino a superare i 1.500 euro al mese per nuclei familiari con sei o più figli. Quindi sicuramente un aiuto economico interessante. Passando alla slide successiva, vediamo anche perché è stato concepito. Di base l'assegno unico, che di fatto si chiama assegno unico universale, mirava a due principali novità. Uno era unificare un insieme di interventi che già esistevano pregressamente a fronte del supporto alle famiglie, e di fatto è andato a sostituire sei principali misure, che sono quello che forse ricordate ancora, come bonus mamma domani, bonus bebè, il fondo per l'infanzia, una serie di detrazioni IRPEF a sostegno della famiglia, nonché poi il bonus terzo figlio, un po' meno conosciuto, ma anche diverse assegne al nucleo familiare, che oggi sussistono solo per alcune casistiche particolari. Ed inoltre è universale perché ha garantito, rispetto alle misure precedenti, una copertura molto più ampia, di fatto eliminando il requisito reddituale, che veniva spesso richiesto per accedere ad esempio agli ANFO o al bonus bebè. Scorrendo alla slide successiva, andiamo a vedere invece i tipici beneficiari. Questa potrebbe essere una slide che colpisce alcuni di voi, perché tendenzialmente si è portati a pensare che l'assegno unico sia destinato alle sole famiglie con figlie, che è vero per la maggioranza dei casi, ma in realtà c'è la casistica del figlio maggioreno, del figlio orfano, che comunque è coperto dalla normativa. Io oggi non entro molto nel dettaglio dei singoli casi, questo però è invece una visione di dettaglio data proprio anche per far unirvi del materiale, poi se volete approfondire su come funziona, diciamo, rispetto alle diverse casistiche. Per quanto riguarda i beneficiari genitori, tendenzialmente basta che si faccia parte di una famiglia, come definita, senza ISE, con minorenni, maggiorenni fino a 21 anni di età, che svolgono determinate attività, oppure maggiorenni con disabilità medio grave, o non assolutamente sufficienti di qualsiasi età. Questi figli maggiorenni possono anche richiedere autonomamente l'assegno unico, fin quando appunto fanno parte del nucleo familiare ISE dei propri genitori, mentre invece eventuali figli orfani, che pure sono maggiorenni e svolgono una di queste attività che vedete in elenco fino a 21 anni, oppure senza limiti di età, se hanno disabilità medio grave o non autosufficienza, possono tranquillamente richiedere l'assegno unico, anche se astrattamente non avrebbero fatto parte del nucleo familiare ISE dei propri genitori. Il concetto quindi che rileva è quello del nucleo familiare ISE, che è un concetto non proprio intuitivo, lo vedremo dopo anche a livello ISE, che comporta diciamo l'insieme di adulti e bambini che fanno parte, che hanno residenza alla stessa abitazione, ma che è composto anche dai coniugi con diversa residenza, purché non separati o divorziati, e dai figli maggiorenni fino a 26 anni di età, non sposati, senza figlio e a carico IRPEF. È una particolarità la questione del matrimonio, perché paradossalmente nelle vostre aziende potreste avere due ragazzi di 20 anni, magari che svolgono un tirocinio, oppure comunque hanno un'attività con una distribuzione inferiore a 8.000 euro, che idealmente entrerebbero in entrambi i casi nella richiesta dell'assegno unico, però uno dei due ragazzi per il solo fatto di non essere sposato ha diritto alla prestazione, anche se in una famiglia molto benestante, mentre l'altro che magari una famiglia meno agiata per il solo fatto di essere sposato perderebbe il diritto all'assegno unico. E quindi sono, diciamo, quelle casistiche che comunque su grossissimi numeri, vediamo, capitano e sono dovuti proprio dalla definizione del nucleo familiare ISE ai fini dell'assegno unico. Se scorriamo sulla slide successiva, vediamo un'altra delle domande che capitano più spesso quando si affrontano le prestazioni sociali che è quella dei requisiti. Oltre ai requisiti già visti per la composizione familiare, ci sono determinati requisiti di cittadinanza da rispettare, ma anche requisiti di residenza. Banalmente bisogna essere residenti e domiciliati in Italia per tutta la durata dell'assegno unico. Quindi questo comporta che se ci sono lavoratori espatriati all'estero, tendenzialmente si perde il diritto alla prestazione. Un'altra particolarità è anche dovuta al concetto di residenza prolungata, che deve essere per almeno due anni in Italia, che però può anche non sussistere nel caso in cui si abbia ad esempio un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un contratto di lavoro a tempo determinato della durata superiore di sei mesi. Quindi nel caso in cui invece all'opposto abbiate i lavoratori esteri, i problemi dei stranieri, che appunto lavorano nelle vostre ditte in Italia e quindi potrebbero comunque avere requisiti per la richiesta dell'assegno unico. Andando alla slide successiva, è una slide bellissima che chiaramente non vi sto a dettagliare, però rappresenta tutta la struttura complicata nell'erogazione di questi importi. Come abbiamo visto prima, l'importo medio erogato a una famiglia con un figlio a 130 euro, ma questo importo sale parecchio, addirittura nel caso di famiglie con sei figli, arriva a superare i 1500 euro al mese. La struttura tipica nella erogazione dell'importo dell'assegno unico tiene conto di tre fattori. I scaglioni ISE e l'età è comunque universale, quindi a prescindere dal valore ISE, dal valore reddituale e patrimoniale, la famiglia ha comunque diritto all'assegno unico se rispette i requisiti di residenza, cittadinanza e nucleo familiare, però ci sono diverse maggiorazioni previste in relazione all'età del figlio e appunto allo scaglione ISE di appartenenza. Ci sono ulteriori maggiorazioni per ogni figlio che tengono conto del fatto che sia un figlio successivo al secondo oppure un figlio che ha disabilità oppure una madre con età inferiore ai 21 anni oppure che entrambi i genitori siano lavoranti o infine, e questa è una novità normativa introdotta dalla legge di bilancio, nel caso in cui ci siano figli che hanno tra 1 e 3 anni i nuclei familiari con un numero di figli superiore a 3. Quindi è prevista una nuova maggiorazione che incrementa l'importo destinato al figlio di un ulteriore 50%. Inoltre ci sono altre maggiorazioni che tengono conto del fatto che la famiglia poteva richiedere gli ANFO nel 2021 per evitare diciamo un trattamento di svantaggio rispetto a quella che era l'erogazione ANFO nel 2021 oppure se il nucleo ha 4 o più figli in questo caso l'importo è stato elevato dalla legge di bilancio da ulteriori 100 a ulteriori 150 euro sull'assegno mensile o ancora se sono presenti i figli con età inferiore a un anno. Andando alla slide successiva invece vediamo un'altra tipica domanda che capita sull'assegno unico che è appunto come fare richiesta. Ci sono in primis alcuni automatismi gli automatismi riguardano i percettori del reddito di cittadinanza che tendenzialmente hanno l'assegno unico erogato in automatico se c'è non accade devono predisporre il modello RDC,U ma anche le persone che già hanno richiesto l'assegno unico nel corso del 2022. I canali disponibili sono il sito dell'INPS il numero verde predisposto stesso dall'INPS gli enti di patronato o appunto anche tramite bonus X. La documentazione è abbastanza semplice riguarda tendenzialmente documenti di riconoscimento del richiedente alcuni documenti integrativi in caso si sia extracomunitari separati oppure per appunto certificare la condizione di disabilità del figlio o l'attività svolta dal figlio con meno di 21 anni e infine eventualmente l'attestazione ISE per aver diritto ad alcune maggiorazioni. Infine andando a vedere la durata e le scadenze una precisazione importante che differenzia molto l'assegno unico rispetto agli ANF è quella delle mensilità coperte infatti l'assegno unico viene richiesto e copre le mensilità dal marzo del mese in corso al febbraio del mese successivo. Ricorderete che gli ANF invece coprivano le mensilità dal primo luglio del mese in corso al 30 giugno dell'annualità successiva. La domanda va presentata dal primo gennaio però anche qui ci sono diversi alert per i richiedenti e i lavoratori. Se la domanda è presentata tra il primo gennaio e il 28 febbraio l'assegno unico è corrisposto da metà marzo se la domanda viene presentata dal primo marzo al 30 giugno viene corrisposta dal mese successivo ma si ha comunque diritto agli arretrati se la domanda invece è predisposta dopo il 30 giugno si perde il diritto agli arretrati e si ha l'arequazione dal mese successivo. Ci sono alcune variazioni che vanno comunicate quelle più importanti riguardano la nascita di un figlio eventuali variazioni dell'ISE delle condizioni di disabilità delle modifiche relative alla ripartizione dell'assegno unico tra i genitori ma anche se ci sono casi di separazione o matrimonio oppure appunto se si vuole variare la modalità di pagamento dell'assegno unico che tendenzialmente avviene o tramite bonifico domiciliato o appunto tramite accredito diretto sul conto del richiedente. Inoltre anche per quanto riguarda le maggiorazioni ISE tendenzialmente vanno comunicate tra gennaio e febbraio per aver diritto alla maggiorazione dal primo marzo mentre invece il gennaio e febbraio 2023 sono ancora basati sull'andamento sull'indicatore ISE del 2022. Anche qui bisogna stare attenti a fornire l'ISE in determinate scadenze per non perdere il diritto ad eventuali maggiorazioni sugli arretrati. Le prossime slide invece riguardano un veloce snapshot sull'attestazione ISE l'attestazione ISE è di fatto un certificato di sintesi prodotto dall'IMSS che descrive con un unico indicatore la situazione economica delle famiglie situazione economica che definita situazione economica equivalente perché non tiene conto solo di fattori reddituali e patrimoniali ma anche proprio fattori familiari come la composizione del nucleo familiare o la presenza o meno di disabilità. è un indicatore molto importante ma anche molto complesso infatti vediamo dalla slide successiva che si differenziano diverse tipologie di ISE a seconda appunto di quali siano le prestazioni di interesse non entro nel dettaglio ma sicuramente una cosa importante da sapere è l'ISE corrente cioè l'ISE solitamente fa riferimento ai redditi e patrimoni del secondo anno precedente rispetto a quello in corso quindi un ISE 2023 fa riferimento ai redditi e patrimoni del 2021 se nel frattempo è peggiorata la situazione familiare del lavoratore ad esempio perché in cassa integrazione o ha perso il lavoro il lavoratore può richiedere l'ISE corrente che tiene conto dei redditi o degli ultimi due mesi o degli ultimi dodici mesi e dei patrimoni del primo anno precedente quindi al 31 dicembre 2022 quindi non più al 2021 a partire dal primo aprile di quest'anno è una precisazione importante perché specie in un scenario di crisi come quella attuale molte persone non sanno che hanno avuto che possono richiedere questo aggiornamento del valore ISE e quindi accedere a maggiorazioni sulle prestazioni sociali e servizi che hanno diritto da parte degli enti pubblici andando sull'ultima slide dell'ISE voglio giusto qui riportare velocemente tre criticità che di fatto non lo rendono un indicatore banale la prima è la definizione nucleo familiare perché in realtà non è una nozione scontata nucleo familiare cambia a seconda tipologia di ISE e dello stesso familiare per esempio abbiamo gestito casi in cui una madre aveva tre figli e tre figli avuti con tre persone diverse in questo caso quel nucleo familiare aveva un ISE ordinario ma tre diversi ISE minorenni che cambiavano a seconda del singolo figlio da considerare per la prestazione perché cambiava la componente legata all'altro genitore inoltre anche gli intervalli temporali dell'ISE non sono scontati e spesso creano disagi alle persone perché come dicevamo fa spesso riferimento a redditi e patrimoni del secondo anno precedente però ad esempio se la persona è in affitto quindi se il lavoratore è in affitto rileva l'affitto dell'anno in corso così come rileva la presenza di veicoli dell'anno in corso e la situazione familiare dell'anno in corso l'ultima problematica che vediamo spesso è quella sulla reperibilità dei dati a volte il lavoratore dimentica di avere una certificazione unica per un lavoro occasionale di due settimane appunto legata al secondo anno precedente e di se viene respinto per difformità altre problematiche sempre sui dati sono e la necessità di avere dati da parte di tutti i familiari quindi eventualmente anche familiari con cui non si è più in buoni rapporti e quello chiaramente può creare nella pratica un bel po' di problemi infine facendo una velocissima overview di bonus X giusto per darvi qualche numero perché esiste bonus X perché attualmente se vediamo lo scenario italiano ogni anno sono spesi più di 494 miliardi in questa tipologia di servizi al cittadino servizi che rispondono a esigenze diverse come famiglia diritto allo studio imprenditoria appunto per i caregiver che hanno genitori anziani con condizioni di disabilità ciò nonostante mediamente per ogni singola agevolazione tra il 20 e il 60% degli eventi diritto non riesce ad accedervi quindi se andiamo alla slide successiva noi come operiamo di fatto consentiamo all'utente di registrarsi inserire i dati in base a questi dati visualizza l'insieme di agevolazioni pubbliche a quel diritto sia che vengono dagli enti centrali che regionali o locali tramite la piattaforma può velocemente richiedere tutti i servizi inoltre riceve notifiche automatico per nuove bonus o scadenze da rispettare per conservare l'accesso alle agevolazioni e bonus già richiesti andando sulla slide successiva vediamo anche il modello per aziende di fatto noi abbiamo lanciato un modello per aziende in ottobre dove aziende partner si abbonano i propri dipendenti accedono alla piattaforma e possono appunto incrementare il proprio reddito netto sia ottimizzando la tassazione che avendo accesso a questi contributi pubblici e migliorare anche la work life balance con una serie di servizi come bonus asilo nido con già riparentali facoltativi e simili che vanno appunto proprio a operare sul miglioramento della vita familiare del lavoratore e sulla slide successiva vediamo uno snapshot proprio del vantaggio in termini aziendali è sicuramente una misura che porta a un incremento del reddito netto di dipendenti a fronte di un costo inferiore rispetto alle alternative disponibili quella tipica del salario chiaramente tutte le problematiche di pugno fiscale che conoscete benissimo il corporate welfare dove comunque l'azienda a pagare il servizio e quindi c'è un rapporto uno a uno mentre invece in caso di bonus X l'azienda di fatto finanzia un migliore accesso al welfare pubblico preesistente e quindi riesce ad ottenere un vantaggio per il dipendente in un rapporto sette a uno rispetto al costo aziendale infine per darvi qualche numero sulla piattaforma alla slide successiva vediamo l'andamento 2022 è un portale che esiste da gennaio 2022 nel corso di un anno ha avuto più di 187 mila utenti ha contribuito a far erogare più di 16 milioni di bonus pubblici e ha ottenuto più di 1500 recensioni con una valutazione media di 4,8 su 5 io Laura ho concluso l'overview e chiaramente se ci sono domande sono a disposizione sia ora che offline qui i miei contatti che si non ha una valutazione iscriviti e che cosa